Buongiorno da Obiettivo News. Oggi, 15 marzo, è Santa Luisa de Marillac ed è la Giornata Mondiale dei Diritti dei Consumatori, momento per le aziende di dimostrare il loro impegno nei confronti dei consumatori e dei loro diritti. La Giornata Mondiale dei Diritti dei Consumatori è stata ispirata dal Presidente John Fitzgerald Kennedy, il quale inviò un messaggio speciale al Congresso degli Stati Uniti il 15 marzo del 1962, in cui ha affrontato formalmente la questione dei diritti dei consumatori. Kennedy fu il primo leader mondiale a farlo. Il Movimento dei Consumatori nasce qualche anno dopo, nel 1983, ed allora si celebra questo evento. In molti paesi l'obiettivo di realizzazione di tali diritti è ancora molto lontano. È per questo che nasce la Giornata Mondiale dei Diritti dei Consumatori, per fare in modo che le misure di protezione dei consumatori siano attuate in tutto il mondo. Oggi è anche la Giornata Nazionale della Cassata Siciliana. È la Giornata Internazionale delle Pears Hélène, ricetta di origini francese, Poire Belle Hélène. Si tratta di pere intere cotte in una soluzione di acqua e zucchero, successivamente con sparsa di cioccolato fuso, ciascuna servita con una pallina girata alla vaniglia. Tra i nati in questo giorno abbiamo Cesare Beccaria, 1738, e Sabrina Salerno, 1968. Tra i scomparsi ricordiamo Giulio Cesare, 44 a.C.